Potrebbe essere una stagione da record quella appena iniziata di Ballando con le stelle, se non per gli ascolti, che ancora non esplodono, per la prima possibile storia d'amore nata a meno di due settimane dalla partenza del programma. Millie Carlucci dimostra ancora una volta di vederci lungo nella creazione delle coppie, che spesso, e volentieri, traslocano dalla pista da ballo alle quattro mura di casa. L'anno scorso c'era voluto un mesetto per far innamorare Emma Stoccolma e Angelo Madonia, ritornati single da pochissimo, ma quest'anno qualcuno li avrebbe battuti. Stiamo parlando di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, affiatatissimi e a quanto pare inseparabili già ben prima dell'esordio su Rai 1. I due non lo hanno negato durante l'ultima puntata, pungolati dalla giuria, e anche nell'intervista rilasciata ieri al settimanale che hanno ammesso di vedersi fuori, ma rigorosamente da colleghi, abbiamo un rapporto professionale, hanno detto, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l'imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli. Che Lorenzo e Lucrezia si trovino bene è sotto gli occhi di tutti, ma l'imbarazzo a quanto pare l'hanno superato da un bel pezzo e non soltanto nel ballo. Secondo alcuni ben informati, infatti, tra loro sarebbe esplosa la passione, per ora tenuta al riparo da telecamere e occhi indiscreti, ma non tutti. Le voci che arrivano dal backstage sono bollenti e parlano di una grande intesa, sicuramente non nel tango. O comunque non solo. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.